Benvenuti a questo nuovo video del Giardino della Pedagogia, io sono Mare Sara Della Valle, sono una pedagogista, una educatrice e una divulgatrice digitale, sono esperta del lavoro con famiglie minori, ti ricordo se non l'hai ancora fatto di iscriverti a questo canale e di attivare la campanella per ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video e di seguirmi anche su Instagram. Fatta questa premessa, di che cosa voglio parlare in questo video? Voglio parlare dell'ordine dell'arbo professionale sia per quanto riguarda gli educatori, i soci o pedagogici, sia per quanto concerne anche i pedagogisti. Nel mio caso voglio fare questa riflessione in senso generale, senza essere comunque specifica in quanto comunque ci sono gli esperti a seguito. Io sono alle prese come anche molti di voi in tutta Italia, tutti gli educatori e i pedagogisti sono alle prese con l'iscrizione ai rispettivi albi professionali e quindi sono alle prese con la burocrazia che purtroppo è presente nel nostro paese, ma che devo dire la verità in questo caso è più che mai a nostro favore, perché finalmente si fa ordine nel disordine. Si garantisce appunto la professionalità che l'utente, la persona fragile merita e che ha diritto in quanto non sarà più possibile assumere psicologi, psicoterapeuti, assistenti sociali, persone appunto prive di laurea e di titolo specifico. Finalmente si avrà anche la possibilità di poter cambiare, mi riferisco soprattutto all'aspetto contrattuale, all'aspetto lavorativo, alle condizioni di lavoro, comunque alla situazione anche per quanto concerne proprio nello specifico le ore che si lavorano, le ore lavorate. E' tutto ciò che riguarda comunque la situazione, le difficoltà per quanto concerne il lavoro educativo, che è un lavoro appunto, qui è un po' bella detto dei lavori, che mira alla relazione ovviamente dell'altro, è un lavoro legato proprio alla relazione d'aiuto. E' in questo senso che comunque, come dire, voglio fare questa riflessione, una riflessione che vuole essere a caldo, che vuole essere generale, che non vuole essere, come dicevo poc'anzi, molto tecnica, ma che vuole essere appunto una riflessione positiva in questo senso, dove finalmente facciamo ordine, finalmente c'è delle regole, delle modalità di professionalità, di regole, di indicazione sulla nostra professione e su come appunto si lavora con l'utente, di come appunto essere seguiti, di come essere formati, aggiornati, quindi anche l'investante della formazione è fondamentale e di avere anche quella potenza comunque necessaria affinché si spinga anche a chi di dovere per poter cambiare le condizioni, come dicevo, contrattuali, le ore lavorative e tutto ciò che concerne appunto per chi svolge il lavoro dipendente. Ma nel mio caso anche per chi svolge il lavoro in libera professione con la partita IVA, anche questo è un aspetto fondamentale, perché anche qui appunto finalmente si può fare chiarezza e si ha legge alla mano, quindi una carta, un documento scritto nel quale comunque appunto accertare e far comprendere alla società, quindi l'altro aspetto anche della diffusione della nostra professione, sia per quanto concerne il pedagogista che l'educatore socio-pedagogico, quindi finalmente far conoscere anche a livello sociale, non solo nel nostro interno, le professioni di aiuto, quindi le professioni di educatore socio-pedagogico e pedagogisti in particolare, perché comunque anche con i video precedenti, nelle quali comunque davo una breve scursus sulle professioni di aiuto, quindi includeva anche l'assistente sociale per esempio, lo psicologo, lo psicoterapeuta, includeva anche le professioni di coaching eccetera eccetera, quindi un ampio ventaglio di professioni che sono a servizio della persona. Finalmente nel nostro caso si fa chiarezza, si determina anche le tariffe per quanto concerne la libera professione, si determina quindi tutto ciò che riguarda anche le nostre funzioni, le nostre manzioni, si determina anche appunto la formazione e finalmente si fa anche rete, si fa anche squadra, quindi è anche appunto come dicevo prima un aspetto fondamentale per quanto concerne il riconoscimento sociale, il riconoscimento anche della pensione o comunque in sostanza della possibilità appunto del dopo, quindi lavoro, di che cosa si fa. Quindi tutto ciò che riguarda appunto la sfera lavorativa, la sfera professionale, il riconoscimento a 360 gradi. Finalmente mettiamo ordine, finalmente iniziamo un nuovo percorso. Non nascondiamoci dietro un dito che questo percorso sarà lungo, faticoso e molto duro, molto difficile. Ci saranno sicuramente delle difficoltà, degli ostacoli, anche battute d'arresto, ma non dobbiamo mollare, dobbiamo continuare su questa direzione. Comunque il lavoro è stato fatto, perché è stata fatta anche nella legge di bilancio del 2017, è stato finalmente definito i ruoli e che cosa fa sia l'educatore sociopedagogico che il pedagogista. Ora finalmente questo passo è stato fatto con l'arrivo degli ordini professionali e dobbiamo comunque andare avanti affinché le nostre professioni non siano totalmente dimenticate o comunque non valorizzate. Dobbiamo comunque continuare a farci sentire, questo è uno strumento che può essere sicuramente utile e soprattutto non farci più confondere dalle altre professioni. Queste sono un po' le riflessioni e ciò che mi veniva un po' in mente così a caldo riguardo finalmente all'escrizione e quindi alla costruzione di questi nuovi albi di educatore sociopedagogico e di pedagogista. Se vuoi ti dico anche di commentare qui sotto se lo desideri, diciamo che è anche importante per l'algoritmo di mettere un mi piace, un like a questo video se ti è interessato, di iscriverti a questo canale per attivare la campanella e ricevere le notifiche ogni volta che esce un nuovo video, di seguirmi sui social e su Instagram. Ti ringrazio ancora e alla prossima!